Il MVP della partita 3 a 0 per la vittoria di Sistiana con Soltona a Muro per dei casi partiti che non sono a noi, insomma una delle lezioni e stazioni personali da Mati Bertini e di questa partita Sì, però ho fatto le due partite, lo sapevamo già, scoprò lo 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 scoprò e dicendo che il gruppo è un buon lavoro, dipendono tanto e sbagli amicolti Abbassati i bravi a vizzuotare e aver pazzo, e alla fine di loro a portare i risultati e aiutare i risultati hanno cambiato il più forte di loro Sono abituati a dipendere in tante, a dire che va bene, e anche a qualche area ondata e tutte le percentuali, le prestazioni di orpone per la penata Oggi è benissimo veramente, è veramente un progetto di più di più sia con altri risultati a tanti e anche che benissimo il pacchetto Sì, ci siamo all'idea di apposta, un po' più buona prima, ma sarebbe stata una bella vita e comunque sicuramente è stato molto male, ma è una migliore attualità. E' un studio tutto bene, a questo punto, la prima partita, è un'emozione di più. La seconda parte, 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 la seconda parte. L'arma è un patria, la ripenta del nostro cammino, si va verso la cammino. Un bel segnale di discattolo, quello che ha fatto in riserva. Mi avviso, sì, il sindaco spontaneo di riserva. Nello, commento anche sulla tua prestazione, come abbiamo detto, sei lenti di questa partita. Grazie per la visione!